I ladri sapevano che nell'appartamento a quarto piano in un palazzo nella zona dei Monti Parioli non c'era nessuno, quindi hanno messo a segno colpo con calma, un bottino anche ingente, stando alle ultime notizie, quello nell'abitazione della conduttrice TV Caterina Balivo e del marito manager finanziario e scrittore Guido Maria Brera, tra gioielli, orologi Rolex e borse griffate. La banda è andata a colpo sicuro, sapendo che i padroni di casa erano fuori casa. La Balivo aveva pubblicato alcuni post sulle vacanze e i migliori ristoranti di Barcellona, che potrebbero non essere passati inosservati anche negli ambienti dei ladri acrobati. La conduttrice è tornata a Roma domenica sera e ha trovato la porta bloccata dall'interno. Da qui la segnalazione al 112 e l'intervento dei vigili del fuoco insieme con la polizia. I banditi avevano infatti bloccato la porta con un mobile abbastanza pesante da impedire a chiunque ad entrare e sorprenderli, mentre svaliggiavano la cassaforte, che è stata trovata aperta e vuota. Per arrivare al quarto piano, i ladri, adottando una tecnica già utilizzata anche nelle ultime settimane in diversi quartieri della capitale, si sono arrampicati sulla parete del palazzo fino a raggiungere il balcone del quarto piano, dove hanno forzato una porta-finestra. A lavoro la polizia scientifica alla ricerca di tracce e impronte che potrebbero essere state lasciate dai ladri.